ciao bambini ciao mamma e papà oggi ci divertiamo con la pittura e rilievo abbiamo bisogno di un bicchiere di schiuma da barba un bicchiere e mezzo di colla vinavil un bicchiere di farina bicchieri o ciotoline con le tempere una ciotola forbici e sacchetti di plastica mescoliamo insieme schiuma da barba colla e farina dopo aver mescolato bene dividiamo il composto nei vari colori adesso versiamo il colore nelle bustine tagliamo la punta e siamo pronti a clorare tagliamo la punta tagliamo la punta Grazie a tutti.